Ciao amici di chitarre, benvenuti in questo nuovo video da Simone Gian Lorenzi e dalla mia troupe televisiva che oggi qua ci sta riprendendo e vi salutano anche loro. Allora, oggi siamo qua con questo stupendo nuovo esemplare di Music Man, il modello in questione è la Luke 3, la chitarra signator di Steve Lucater, la nuova reincarnazione della Luke, giunta appunto alla sua terza reincarnazione, è una chitarra che presenta delle novità di tutto rispetto rispetto ai modelli precedenti, tra cui un'elettronica rinnovata e altre kick, come ad esempio il booster che utilizzeremo durante la prova. Per fare questo test abbiamo preso anche in prestito una testata Bogner Ecstasy, che è appunto l'ampli che utilizza attualmente Luke sia live che in studio, la testata con cui ha registrato il nuovo disco, quindi cercheremo di simulare un po' i suoi suoni e il suo modo di suonare utilizzando gli strumenti che adesso per lui sono più cari. Iniziamo dai suoni puliti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sentiamo adesso invece i suoni crunch. Grazie a tutti. 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 anche il boost su questo suono. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info e www.mesmerism.info Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Sentiamo adesso invece con il boost inserito. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!